Oggi con le nostre telecamere seguiamo la passione, seguiamo il Wine Passion, dove a Gradara, ormai un appuntamento irrinunciabile per gli amanti di un buon callice di vino, vino artigianale, fatto con passione, fatto con grande competenza e soprattutto fatto all'aria aperta, all'interno di questo bellissimo borgo che richiama anche tante altre passioni, tra cui quella dell'arte e della storia e quella di Paolo e Francesca. Filippo Gasperi, sindaco di Gradara, ha dato l'avvio con una meravigliosa sciabolata a questa nuova edizione di Gradara Wine Passion. Sì, Nicolo, infatti ormai è tradizione che io e Thomas, il vice sindaco, apriamo questo bellissimo evento con una sciabolata di due prestigiosi vini che inaugurano questi due giorni dedicate al vino, è la passione del buon vino per un'arte che si rende unici nel mondo e che nel contesto di questo borgo storico acquista ancora più valore. Quest'anno torna la musica dal vivo grazie al contributo di Leo Ercolanen che ha messo insieme tre band live e un DJ set che è qui nella piazza principale. Quindi buon bere, buona musica, un buon contesto e bella gente, meglio di così. Ci voleva una bella festa del vino anche ad agosto, anche a Gradara. Beh sì, ormai è diventato tra gli appuntamenti più importanti, è davvero molto atteso anche da noi perché dopo una stagione molto intesa e carica di eventi, anche per noi è un momento in cui ci rilassiamo e ci godiamo il nostro bel burgo passeggiando e assaggiando buoni vini. Quest'anno è una grande novità, Nico, perché per la prima volta abbiamo inserito i vini dell'amicizia, che sono quei vini che vengono da nostre città gemellate, in questo caso da Antalya, dalla Turchia, la città di Morat Pasha, città bellissima nel sud della Turchia, e da San Vincenti, altra città gemellata con Gradara che si trova in Istria, Croazia. Sarà possibile quindi assaggiare e degustare questi vini croati e turchi e anche questo penso sia un modo per estendere il concetto e la condivisione di un piacere, di una bellezza, di una conoscenza culturale come è il vino, anche con i nostri partner tutta Europa.